Credimi, io non avrei mai creduto che le cose andassero così, che dal punto di vista dolore io non ho sentito assolutamente niente. Adesso è passato quasi un anno, non ho avuto più dolore, non ho avuto più fastidi, nulla. Il fatto che mi ha subito è anche quello che non sento questi denti come un corpo estraneo, li sento diciamo come se fossero quelli normali, ecco. Ho avuto una sensazione come se io fossi nato proprio con questo apparato, come se i denti fossero stati sempre i miei. E soprattutto la vita è cambiata. Perfetto, perfetto. E dico grazie e da oggi ricomincia una nuova parte della vita, no? Quando lei mi ha detto è tutto a posto, è tutto fatto, abbiamo messo due impianti, io mi sono rimasti meravigliato, ho detto è possibile, con un quarto d'ora ha messo due impianti, il dottore è riuscito a mettere due impianti senza sentire niente. Due arcate in una sola mattina per me è stata, non lo so, una sorpresa. Facciamo un sorriso ai nostri amici? No, è un numero uno, è un numero uno, ve lo posso utilizzare? No, un po' di Mississippi. Mississippi. Una sorriso ai 5 principi. Perfetto. Grazie a tutti.